E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Alla base e più in là dell'universo, del tempo, dello spazio e delle mutazioni, si trova la realtà sostanziale, la verità fondamentale. La sostanza è ciò che c'è al di sotto di ogni manifestazione esterna, è la cosa in sé. Sostanziale significa quindi lo stato di ciò che è reale, ovvero fisso, stabile, vero. Quando prendiamo in considerazione il nostro universo, riusciamo a vedere solo i cambiamenti nella materia, nelle forze e negli stati mentali. Osserviamo che in realtà nulla è, ma tutto cambia, tutto diviene. La legge del ritmo è sempre presente. Ogni cosa nasce, si sviluppa e muore. Nell'attimo in cui qualcosa arriva al culmine del suo splendore, già comincia inesorabilmente a decadere. Non esiste una realtà, una fissità, uno stato permanente. Niente resta immutato, tranne il cambiamento stesso. Vediamo ogni cosa evolversi, tutto risolversi in altro, azioni, reazioni, flussi, riflussi, morte. Nulla resta, tranne il cambiamento. Ma l'uomo che pensa comprende che tutte queste mutazioni non sono che apparenze esterne, manifestazioni di una realtà sostanziale, della potenza che sta alla base di tutte le cose. I grandi pensatori di ogni epoca e nazionalità riconoscono l'esistenza di questa grande realtà. Tutte le filosofie di un certo livello hanno per base tale pensiero, pur avendolo chiamato in vari modi. Alcuni dicono divinità sotto diversi nomi, altri energia infinita, altri ancora materia. Tutti però sono d'accordo nel riconoscerne l'esistenza. Si tratta di una realtà così evidente che non ha bisogno di commento. Come già molti prima, gli ermetici chiamano questo grande potere, questa immensa forza sottostante, con il nome di tutto, con cui si indica il più capiente dei termini usati dall'uomo per ciò che trascende nomi e termini. Poiché accettiamo la dottrina dei più grandi pensatori ermetici di ogni tempo e quella delle anime che hanno raggiunto i piani di esistenza più elevati, ci uniamo a loro nell'affermare che la natura profonda del tutto non può essere conosciuta. Così è e sarà perché a nessuno è dato di comprendere l'essenza del tutto. I veri ermetici sanno che le teorie, le ipotesi, le speculazioni dei metafisici e dei teologi non sono che sforzi inutili di deboli menti mortali per tentare di spiegare i segreti dell'infinito. Tutti questi tentativi falliranno perché chi si dedica a questi studi si perderà nel labirinto della logica tornando al punto di partenza. Quindi sono da considerare ancora più presuntuosi quelli che pretendono di ascrivere al tutto la loro personalità, le proprie qualità, i propri attributi. Vorrei chiarire a questo punto la distinzione esistente tra religione e teologia, tra filosofia e metafisica. Noi diamo alla religione il carattere di rivelazione intuitiva dell'esistenza del tutto e delle sue relazioni con l'umana specie. Invece la teologia altro non è se non quell'insieme di tentativi da parte dell'uomo di attribuire personificazione, caratteristiche e qualità al tutto escludendo la sua vera natura mediante teorie riguardanti il suo essere, i suoi desideri, i suoi disegni e risolvendo così la necessità di intermediari fra esso e gli individui. Per noi filosofia vuol dire ricerca del significato di cose conoscibili e alla nostra portata, mentre, al contrario, la metafisica opera oltre i limiti del conoscibile con un piano di azione del tutto simile a quello teologico. Ne consegue che, per noi, sia la religione che la filosofia vanno intese come dottrine con un proprio fondamento nella realtà. Al contrario, teologia e metafisica non sono altro che vuote formule che affondano le loro radici nella sabbia dell'ignoranza. Il nostro obiettivo non è convincerti ad accettare queste dottrine. Le stiamo solo esponendo per mostrare il nostro punto di vista. Malgrado la vera natura del tutto non sia conoscibile, vi sono alcune verità essenziali ad esso relative che non possiamo ignorare. Esaminarle è nostro compito, specie se si tiene conto che esse concordano perfettamente con quanto fu detto dai sapienti più illuminati. La ragione umana a cui dobbiamo dare ascolto quando pensiamo ci fa notare queste cose riguardo al tutto. Primo, poiché per sua natura nulla può esistere al di fuori del tutto, esso deve essere ciò che realmente è. Secondo, il tutto è infinito. Nulla può delimitarlo, definirlo, costringerlo o limitarlo, perché è eterno, infinito nel tempo. È sempre esistito. Nulla può averlo creato e noi sappiamo che niente può derivare o evolversi dal nulla. Se non fosse mai stato, fosse anche per un solo attimo, neppure ora sarebbe. E ancora, non può esserci luogo al di fuori del tutto, quindi deve essere infinito nello spazio e dovunque. Continuo, senza separazione o rottura, poiché niente esiste che possa interrompere la sua continuità. Si può quindi dedurre che è potenzialmente infinito in se stesso e quindi assoluto. Nessun potere esiste al di fuori del suo. Terzo, il tutto è immutabile nella sua essenza più profonda. Non si può aumentarlo, né diminuirlo o distruggerlo e in nessun modo si può farlo divenire più piccolo o più grande di quel che non sia. È sempre stato e sempre rimarrà com'è, immutato nel tempo e nello spazio. Tenendo presente che il tutto è infinito, immutabile, assoluto ed eterno, tutto ciò che, al contrario, è instabile, finito, condizionato, non può essere il tutto. Quindi, dato che nulla esiste al di fuori del tutto, ogni cosa finita, in realtà, è niente. Non ti far spaventare o stupire da questo concetto. Non è fatto per giungere, attraverso la filosofia ermetica, ad un ideale cristiano o di altra religione. Anche se a prima vista può apparire assurdo, c'è un certo nesso logico tra le cose appena dette, senza dover ricorrere a dogmi. Se noi ci guardiamo intorno, possiamo vedere ovunque la base fisica di ogni forma, la materia. Però non dobbiamo confondere questa materia con il tutto, in quanto non può contenere vita o mente, che, infatti, sono prerogative dell'universo, quindi del tutto. E' questo il motivo per cui anche la scienza moderna ci dimostra che in realtà la materia non esiste. Non esiste, cioè un termine di quel genere, ma piuttosto potremmo dire energia o forza interrotta, cioè forza a grado di vibrazione ridotto. Allora il tutto non è altro che pura energia o forza? Anche questo è sbagliato, almeno nel senso comune dell'interpretazione. Energia e forza per i materialisti sono forze cieche, meccaniche e prive di una qualsiasi guida mentale. E noi sappiamo che la vita e la mente non possono essere il frutto di un'energia cieca. Ecco perché il tutto non può essere solo energia pura, altrimenti non esisterebbero vita o mente, mentre noi siamo vivi e usiamo piuttosto bene e di frequente la nostra mente per risolvere tutti i nostri problemi. Quindi, cosa c'è di più elevato della materia o dell'energia che sappiamo esistere nell'universo? La vita e la mente. Il tutto si risolve in esse, in tutti i loro gradi. Se intendiamo per vita e mente quello che noi, poveri mortali, conosciamo intorno ad esse, siamo fuori strada. Quindi, che tipo di mente è vita? La vera vita e la vera mente sono qualcosa così al di sopra di ciò che si concepisce comunemente. La risposta è mente vivente. Il tutto è la mente vivente, esattamente quella mente vivente infinita che gli illuminati chiamano, col massimo della riverenza, Spirito.